Musica Abbiamo purtroppo, e io una cosa ormai che dico da sempre, è che un quartiere a vocazione turistica della poi delle defiance che ho letto per quanto riguarda Sorical su alcune carenze che noi abbiamo nel controllare la nostra rete idrica perché per un sacco di allacci abusivi che ci sono nella città e su noi stiamo prendendo tutti i provvedimenti, tutte le precauzioni, possiamo porre fine a questi disagi che ci sono contemporaneamente, ma è Sorical pure che deve capire che deve investire nella rete idrica in quanto ormai non è possibile, ormai io sono 2-3 anni, 4 anni che faccio l'assessore e mi ritrovo ogni anno con gli stessi problemi, non può un quartiere a vocazione turistica l'estate rimanere senza acqua questa è una cosa che io non accetto, non l'accetto io, non l'accetto il sindaco, non l'accetto tutti i cittadini e anche i turisti che frequentano il quartiere minario in questo periodo quindi ancora una volta chiedo a Sorica di attrezzarsi e di voler completare quel famoso progetto di cui ne abbiamo sempre parlato tra i tre anni, B01B, che consentirebbe dall'Ali qua nei pressi dello Stillo una condotta nuova con un nuovo serbatoio e questo eliminerebbe definitivamente i problemi che il quartiere marinaro ogni anno ha per quanto riguarda i problemi dell'acqua.